CDR Beer Lab è il sistema di analisi per la birra, il mosto e l'acqua. Rapido, semplice e affidabile. CDR Beer Lab può essere utilizzato direttamente in birrificio durante tutte le fasi di produzione della birra. Il sistema è stato pensato per le esigenze dei mastri birrai e dei birrifici di tutte le dimensioni, per il controllo qualità e il monitoraggio di tutte le fasi della birrificazione. Con CDR Beer Lab è possibile eseguire un ampio pannello di analisi sulla birra, sul mosto e sull'acqua, con un solo sistema, in modo più semplice e veloce rispetto ai metodi tradizionali. Il sistema CDR Beer Lab, affidabile, rapido e intuitivo, permette a chiunque di eseguire le analisi direttamente in birrificio, in modo autonomo, senza doversi rivolgere a laboratori esterni e senza dover richiedere il supporto di personale tecnico specializzato. Grazie alle sue celle termostatate a 37 gradi centigradi, 16 di incubazione e 4 di lettura, si possono analizzare contemporaneamente fino a 16 campioni, così da monitorare costantemente il processo produttivo, ottenendo i risultati in pochi minuti. I reagenti sono pre-infialati e pronti all'uso e vengono forniti in confezioni contenenti 10 provette ciascuna, utili a eseguire 10 test. I risultati si ottengono in pochi minuti. È sufficiente aggiungere con la pipetta fornita con il sistema il volume esatto di campione al reattivo presente nella provetta pre-infialata e seguire le indicazioni visualizzate sul display. Ma se sorgesse qualche dubbio, la funzione Help vi guiderà passo dopo passo nel procedimento. Al completamento dell'analisi, il risultato viene automaticamente calcolato, visualizzato e stampato. Il sistema CDR BeerLab è uno strumento di misura sensibile e preciso, grazie all'impiego della tecnologia fotometrica basata su sorgenti luminose a LED. I risultati delle analisi sono precisi e affidabili. La correlazione dei risultati con quelli dei metodi di riferimento è stata validata da un importante laboratorio internazionale. CDR BeerLab fa parte della linea di prodotti CDR FoodLab, sistemi di analisi affidabili e precisi per il controllo di qualità di alimenti e bevande.